amici di quelli che eroi dopo tanti chitarristi tastieristi bassisti stasera ospite della trasmissione abbiamo un batterista alessandro pelle alessandro inizia gli studi all'età di 14 anni con il maestro orazio chiappino e successivamente con il maestro paolo negroni poi più avanti con il maestro massimo serra della treves blues band a viella da lontano 1999 è il batterista e percursionista del bluesman genovese paolo bonfanti amico della nostra pagina e nostro ospite qualche settimana fa e grazie a questa collaborazione quasi di internale ha collaborato con altri artisti del calido biro e rogers dave calli david james gono manson fabio traves e tanti altri qui lo vediamo in concerto con paolo bonfanti di alcuni anni fa in teatro e il pezzo è i'm just trying Collabora poi con Paolo Ballardini, Andrea Magdalone, Iperitlo, Alfa, Blue Circle Band e tanti altri. Ha suonato la batteria e registrato in studio con Paolo Bonfanti, Tiero Parodi, Guglio Pespo, Walter Evo, Tiguglio for Friends, Andrea Magdalone, eccetera eccetera. Dal 2016 collabora con Pivio e Aldo Descalzi e registra con loro diversi colonne sonore di film, partecipando quindi al loro successo che ha portati a vincere tre debi di Donatello e altri premi. Ultimo in ordine cronologico la soundtrack di Diabolik e sono attualmente dietro alla lavorazione di Diabolik 2, in prossima uscita. È il fondatore di un gruppo musicale, Too Little Time Band, specializzata nella presentazione e concerto di musical molto famosi. Questo che vediamo è uno spettacolo registrato al Teatro Verdi di Genova Sestri, con la Too Little Time Band e i bambini della scuola primaria Foglietta di Sestiponelli. Collabora con una compagnia teatrale che porta in teatro spettacoli come Gesù tra i Superstar, appunto, Re Leone Tarzan e Vida Aida di Antiole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Molto attiva la parte didattica. Dal 2004 insegna batteria in diverse scuole genovesi tra cui almeno 10 anni nella specializzata scuola Drum Club Genoa ed è il fondatore e presidente dell'associazione Tumchak per la didattica musicale ai bambini e dal 2020 entra nello staff degli insegnanti scuola d'arte e spettacolo Artis di Genova. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana da Tony Heroi Musical. Vi saluto a tutti.